Salve a tutti, io sono Martina Mengoni e con questo breve video vi presento il numero 84 di Allegoria. Questo numero è composto da quattro sezioni. Teoria e critica, il presente, insegnare letteratura, 3.000 battute. Nella sezione teoria e critica sono raccolti 5 contributi. Un saggio di Chiara Fenoglio discute tre letture dell'edilio di Leopardi. Un saggio di Rossana Chianura è sulla rappresentazione delle origini nel romanzo di famiglia. Un saggio di Anna Bardini approfondisce il tema dell'autonomia letteraria tra stato e mercato sotto regime fascista. Un saggio di Margherita Ganeri rilegge il gattoparto alla luce del concetto di trauma. Infine, un saggio di Alessio Verdone, a partire dal Maurizais, esplora il rapporto tra ecfrasis e soggetto nella poesia neofigurativa di Edoardo Sanguinetti. Nella sezione Il presente, ancora Margherita Ganeri offre un contributo sull'emigrazione nei testi scolastici. Michela Rossi-Sebastiano riflette sul caso del tacquino segreto di Pavese. Savina Stevanato si interroga su che cosa significhi confrontarsi con The Wasteland oggi. E infine Agnese Marcori prende in esame il caso Camon tra realismo, impegno e postmoderno. La sezione Insegnare letteratura ospita un mio saggio su Gianni Rodari di cui vi parlerò tra poco. 3000 battute contiene infine 17 recensioni di romanzi, raccolte e saggi usciti nell'ultimo anno. Il mio saggio su Gianni Rodari che adesso vi presento brevemente si intitola Giannino e la minestra, note su Rodari nel 2021. La data del titolo è un riferimento naturalmente al centenario rodariano dell'anno appena trascorso, a partire dal quale prendo le mosse per provare a pormi alcune domande. La prima è che è anche centrale per la sezione che ospita il saggio, ovvero la sezione Insegnare letteratura. Quanto e come è presente Gianni Rodari nell'insegnamento della scuola superiore di secondo grado italiana? Perché ad esempio un libro laboratorio come Grammatica della fantasia, un libro che riflette sul pensiero creativo, che permette di entrare negli ingranaggi della produzione di storie, è pressoché assente dai manuali di storia letteraria per licei, istituti tecnici e istituti professionali? E ancora, che posto occupa un testo del genere nella storia della letteratura? Nel canone si potrebbe dire, visto anche l'enorme debito che intrattiene ad esempio con il surrealismo francese? Più in generale, perché nonostante il centenario, il lavoro critico e anche editoriale, forse anche e soprattutto editoriale, di storicizzazione dell'opera di Gianni Rodari è ancora in larga parte da fare. Il saggio prova a rispondere ad alcune di queste domande e a rilanciarle, facendo proprio anche il punto sullo stato editoriale dell'opera rodariana nel suo complesso a partire da molte delle pubblicazioni che sono uscite durante proprio l'anno del centenario. E infine il saggio prova anche a non eludere, forse quella che è la questione delle questioni che anima il dibattito critico odierno su Rodari. Rodari era o non era, è o non è un moralista?